bello a tutti ragazzoli e benvenuti nel sedicesimo episodio della nostra serie di minecraft signori siamo sempre messi peggio però 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 andiamo sempre avanti e non demordiamo mai signori detto questo prima di partire il video vi ringrazio per i like per i commenti e per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale perché ho bisogno sempre del vostro supporto signori allora partiamo con il video di oggi signori cosa cazzo facciamo oggi non lo so siamo sul tetto di casa nostra che dobbiamo un attimo riuscire a scendere riuscirò anche a chiudere la botola si perfetto così fatemi gallare un attimino l'audio perché già mi sta un attimino scioccando qui no non devo mettere la torcia lì qui che sta a cuocere ah il kelp signori si si perché nello scorso dopo lo scorso video mi sono messo a raccogliere kelp come se non ci fosse un domani in modo tale da avere una fonte di per per cuocere qualcosa signori perché siamo messi molto male non abbiamo più carbone non abbiamo più ferro siamo decisamente messi male ma la prima fonte importante che a noi ci serve è il cibo signori e a parte il grano e le patate che comunque stanno crescendo bene io direi di andare a costruire la zona dei nostri animali ovvero delle delle mucche e delle delle dei polli fondamentalmente sono quelli che a noi ci servono di più polli signori purtroppo abbiamo solamente quattro uova se non ricordo male facemi controllare qui nella barca dati si nemmeno solamente quattro uova quindi potremmo provare a lanciarle per vedere se riusciamo a trovare dei polletti per la riproduzione ma per prima cosa io preferisco portarmi a casa le mucche come faremo alla zona delle mucche la zona che la faremo al solito da questa parte quindi con un bel colpo di ascia andiamo a rompere questo di qua e proseguiremo dritto faremo al solito quadrato e poi faremo un un ponte praticamente per portare le mucche direttamente da là a qua è una cosa facile no signori decisamente no ma ci proveremo ci proveremo ci proveremo con calma con sangue freddo e con tanta pazienza cosa che in questo momento non abbiamo più di tanto però 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 ci proviamo allora ci serve questo legno ci serve il bambù come se non piovesse come se piovesse no come se non piovesse cazzo lo dico allora questa la zappa però non ci serve però ce la portiamo sempre dietro e proviamo a iniziare a costruire la piattaforma signori per le nostre mucche che poi tutto questo le mucche non lo so non lo so non lo so però le troveremo da qualche parte faremo tutto nel video di oggi non penso non penso signori perché sarà un processo molto lungo allora facciamo il suo conticino da da 1 2 3 4 e 5 e da qua iniziamo già a girare il nostro bellissima zona di di contenimento mucche che la facciamo di allora 1 2 3 4 e 5 direi che va bene se abbiamo 1 2 3 4 e 5 in altre 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 perfetto e dispari e la cosa ci sta bene il fatto che sia dispari ci sta bene è un pochino più piccolo rispetto a quella degli ortaggi ma va bene andiamo diamo movimenti diversi signori facciamo però molto più lunga allora 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 e 13 signori devono esserci mucche come se piovesse allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e di qua dobbiamo poter andare a chiudere senza problemi mi è fatto un pochino più lunga può dire che mi mancano giusto 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 2 cosi vuoi vedere vuoi vedere che non forse no forse no forse no forse no forse riusciamo proprio a chiudere a tappo me ne mancano 2 dimmi che me ne manca solamente 1 no me ne manca proprio 1 ma ma porca palletta ambriaca cioè ma ce ne vuole ma ce ne vuole per sbagliare i calcoli così dico ma ce ne vuole veramente tanta di 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 fortuna per sbagliare i calcoli così signori porca miseria per uno solo va bene va bene l'abbiamo 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 sistemata l'abbiamo sistemata in maniera molto rapida l'abbiamo sistemata ora essendoci le mucche noi qui potremmo mettere se voi siete d'accordo potremmo mettere la terra come abbiamo fatto la per gli ortaggi potrebbe non essere una brutta idea il problema è come cazzaraccia la portiamo qui la terra dovremmo fare tutto il ponte no lì mannaggia che a chi non te lo dice pur dovremmo fare tutto il ponte con la possibilità di mettere la terra e nel senso dovremmo fare tutto il ponte per portare le mucche qui che parta con la terra in modo tale che mi porti l'erba verde nel recinto delle mucche questa potrebbe essere una bella idea una cosa divertente da fare potrebbe essere una cosa divertente assolutamente no cosa cazzaraccia divertente non lo so però però ci possiamo inventare questo questa questo questo passatempo ecco questo passatempo ce lo potremmo un attimino inventare intanto di sicuro dobbiamo andare a piazzare sti cazzaraccia dei blocchi per fare il contorno della zona della zona mucche che così finalmente avremo del cibo degno signori perché tra l'altro in una non mi ricordo in quale episodio abbiamo trovato una canna da pesca incantata che ho utilizzato ieri mai perché faccio così esso proprio scemo che ho utilizzato a fine esempio dello scorso video per recuperare un po di pesce quantomeno avevamo qualcosa da mangiare ma sono state più le cianfusali che ho trovato che il pesce che sono uscito a pescare quindi l'idea del pesce non funziona l'idea del pesce non funziona però per ora era la nostra unica fonte di cibo insieme al pane che come potete vedere stiamo usufruendo ok e il primo step l'abbiamo fatto signori e già è qualcosa il primo step l'abbiamo fatto e non è per niente male mettiamo anche le basi qui sotto così diamo che tra l'altro devo levar ma perché mi so 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 ringredito io devo queste devo levarle ok e mettiamo ora ora io ci riesco a mettere la base qua secondo voi no non ci riuscirò infatti me la mette al contrario brutto bastardo che non sei altro va bene facciamo così e va bene lo stesso e poi gli altri li vado a modificare quello lo vado a modificare signori mettiamo questo qua che me lo metterà male va bene ne mettiamo tre intanto per dare la forma per far capire che più o meno sto coso non è in aria ma è appoggiato da qualche parte anche se non è appoggiato da nessuna parte perché comunque rimane sempre in aria però dettagli signori poi troppo precisi non ci siamo mai stati nella vita non ci saremo mai però è sempre buono dare un'idea un'idea di un qualcosa di inesistente ok 1 2 e 3 perfetto ora io da qualche parte in questa zona qui ho messo dei gradini per una risalita veloce e non fare tutta la circunnavigazione dell'africa che ogni volta perdiamo tre ore solo per riuscire a tornare nella zona di casa ok saliamo di qua no 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 devi salire di qua ok perfetto facciamo il giro coticoti come direbbero quelli riesce a non cascare perfetto e siamo arrivati qua ok adesso noi dobbiamo levare un attimino questo perché così fa proprio cacare mi fa cacare tanto ok riesce a risalire perfetto facciamo così facciamo la stessa cosa qui negli angoli dopodiché ok angolo 2 e angolo 3 poi ci sarà anche l'angolo 4 che dobbiamo un attimino recuperare che è questo qua sotto perfetto no non tu ma tu bene così ok perfetto signori la piattaforma ce l'abbiamo ora dobbiamo semplicemente andarci a creare una pala che non abbiamo e andare a recuperare terra come se non ci fosse un domani signori come se non ci fosse un domani proprio da terra proprio a far schifo il problema è che non abbiamo nemmeno la pietra state scherzando che io non ho pietra per poter costruirmi una pala state scherzando mi devo fare le palle di legno no perché hai messo questo blocco lì ma non è già me che tengo il blocco in mano no allora sinceramente la pala di diamante non me la faccio preferisco intanto farmene una di d'oro che durerà da natale a santo stefano però vabbè intanto ce ne facciamo una d'oro che fa sempre effetto e poi ce ne facciamo altre due di legno che vedevo di signori questa parte ve la taglio però non vi preoccupate la raccolta della sabbia la raccolta della terra ve la taglio molto volentieri ci vado io ci vado io vado io a recuperare terra come se non ci fossero domani e per me sarà recuperare le mucche perché qui ne abbiamo solamente una che ogni tanto si fa vedere gironzola nelle zone qui vicino e poi praticamente sparisce tra l'altro dovremmo fare anche o dovremmo anche levare queste casse di qua che sono brutte di più va bene cerchiamo un punto un po' un po' nascosto direi che possiamo buttare giù questa parte di qua della foresta diciamo che ci impegniamo a buttare giù questa parte qua della foresta vai dai la palla d'oro non è tanto male però porca miseria funziona funziona abbastanza bene durerà da natale a santo stefano come abbiamo detto prima però 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 infatti già è finita signori abbiamo recuperato 10 blocchi ed è finita già la palla d'oro perfetto signori taglio 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 tecnico tattico e ci vediamo quando sto costruendo questo ponte signori ok signori allora io ho recuperato tutta la terra che penso mi posso abbastare penso 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 per iniziare a creare il ponte che a noi serve per portare l'erba praticamente nella zona delle mucche sto facendo un ponte solamente di uno di terra signori perché il ponte dovrebbe essere almeno di due inizialmente infatti il progetto prevedeva che fossero due strati di terra praticamente che arrivassero fino alla dalle mucche però volendo possiamo fare che facciamo lo strato di terra e non lo so signori il progetto iniziale era appunto due cubetti di terra in modo tale da riuscire a coprire tutta quanta la zona quindi comunque dovremmo riuscire a passare però poi ho pensato potremmo farne uno di terra e due di legno così da fare magari qualcosa di più carino però non lo so non lo so signori intanto il primo stack se è andato come se non ci fosse un domani a che distanza siamo ah dai siamo così arrivati pensavo di essere molto molto più distante molto più distante siamo arrivati siamo arrivati volendo allora potremmo anche farlo da due praticamente questo 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 corridoio per le nostre prioritarie per le nostre mucche ma il problema è sempre quello signori ma le mucche in tua cazzo la stanno non lo so non lo so le mucche le troveremo nel prossimo episodio signori intanto arriviamo con la terra nella nostra base sperando che un domani il verde parti purtroppo non abbiamo il silk touch da nessuna parte quindi non possiamo minimamente recuperare un pezzo di erba verde e quindi però dobbiamo far di necessità virtù ok siamo arrivati non siamo neanche messi troppo male l'altezza è anche buona signori l'altezza è più o meno anche buona più o meno anche buona leviamo un attimino la crafting table che abbiamo perso a mare non ho intenzione di recuperarla signori chi se ne frega altamente non ho nemmeno intenzione di di modificare ok tanto l'erba dovrebbe comunque passare lo stesso così ci vorranno anni e anni prima che questa terra riesca a diventare tutta questa terra riesca a diventare tutta verde ma noi non abbiamo nessuna fretta signori noi siamo qui per fare le cose con calma con tranquillità senza premura e senza agitazione questo lo faremo no la torcia lì ma un'altra torcia persa abbiamo perso una crafting table e una torcia vedete anche quando non facciamo missioni rischiose perdiamo sempre qualcosa riesci a mettermi un blocco di terra lì dai forza 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 coraggio forza coraggio dai 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 questo video lo dobbiamo completare con questa zona che è più o meno più o meno completata anche se non è completata perché manca tutto mancano le sponde praticamente in cui le mucche dovranno dovranno stare però 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 che poi appunto dovremmo fare il doppio ricinto in questa zona perché un recinto per contenere le mucche l'altro recinto quello assoluto il bordo del della nostra piattaforma se 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 quindi ci avrà doppio recinto doppio legno mamma mia vabbè questo signore lo faremo nel prossimo video magari mi preparo un pochino prima e ci riusciremo a organizzare meglio ora effettivamente qualche toccio intanto me la puoi mettere qui così faccio un pochino di luce me la puoi mettere qui bravissima e me la puoi mettere qui così quanto meno signori un poco di luce ce l'abbiamo detto questo signori la prima parte della base della della zona delle mucche l'abbiamo completata il ponte più o meno è pronto però con un altro un altro stack forse riusciamo riusciamo quante ne avevo io ancora altre un altro stack e sette magari recupero un altro poco di terra e faccio il secondo strato del ponte signori così le nostre mucche possono viaggiare comodamente vediamo vediamo un attimino tanto poi lo dobbiamo eliminare sto ponte decisamente sì detto questo signori vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i commenti precedenti e per il supporto ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao